Il filosofo James è il massimo esponente del pragmatismo americano. Secondo James il pragmatismo è un metodo per ottenere idee chiare sulla realtà. Per ottenere idee chiare occorre pensare alle conseguenze che si hanno sull'azione umana, ovvero agli effetti pratici, alle sensazioni e alle reazioni che l'idea può produrre. L'idea è vera se in grado di operare, collegando l'esperienza in modo semplice. L'idea è vera se utile. Secondo James la verità non è una proprietà stabile degli oggetti, ma è resa vera dagli eventi ed è un processo. Essa si realizza se convalidata e verificata dall'esperienza. Le idee vere sono quindi approssimazioni migliori degli idee precedenti. Come le idee è la verità, anche la mente umana, secondo James, non è eterna e immutabile. La mente si adatta e reagisce all'ambiente esterno ed è quindi uno strumento dinamico di adattamento alla realtà. Da questa concezione della mente deriva un ampliamento della psicologia. Essa non si occupa soltanto dei fenomeni intellettivi e percettivi, ma anche dei condizionamenti sociali, quindi delle funzioni della mente stessa. Le questioni morali non possono essere risolte come quelle scientifiche. Non riguardano le categorie di vero o falso, ma di bene e male. James sostiene che siano preferibili quei valori che una volta realizzati elimineranno il minimo numero di altri valori. In merito alla religione, James sostiene che l'esperienza mistica può allargare il campo di percezione dell'uomo oltre alla razionalità. La religione, quindi, può essere difesa dalla filosofia stessa. Occorre liberarla dall'angoscia del peccato. Per fare ciò occorre pensare a Dio come di un soggetto trascendente che invita l'uomo a cooperare con lui.